Claudio Baglioni, concerto a Lampidusa interrotto da un ubifragio Claudio Baglioni, concerto a Lampidusa interrotto da un ubifragio 4 ottobre 2017, di redazione. Il 3 ottobre 2017 ricorre la giornata della memoria e dell'accoglienza, per commemorare le tragedie delle migrazioni e nello specifico il naufragio del 3 ottobre 2013, quando a largo delle coste dell'Ampidusa hanno perso la vita 368 persone. . Così cè stato il concerto Noi Qui di Claudio Baglioni accompagnato da 103 musicisti della Banda Musicale della Polizia di Stato diretta dal maestro Maurizio Billi, i 40 elementi del coro Giuseppe Verdi di Roma, condotto da Elena Masini con la direzione artistica di Marco Tartaglia e la partecipazione straordinaria di Paola Saluzzi. . Peccato però che il live sia stato interrotto da una violenta tempesta d'acqua battutasi sull'isola. .